Siamo qui per voi. Non ci piegheremo! Hanno mandato i loro fenomeni da baraccone per metterci alla prova. Gli restitueremo nei sacchi per cadaveri. Nessuna resa! Nessuna resa! Io ora vado ad arrendermi. Tu cancella tutti i file. Se consegniamo loro le armi, potrebbero evitare di indagare tu. Preggio, benedetta. Non sono pronti ad affrontare tu. No, no, volevo dire... I giamelli.